Dal 26 al 28 giugno arriva a San Gimignano Circo Mondo, il festival internazionale del circo sociale. Troverai giovani artisti circensi provenienti da Italia, Brasile, Libano, Kenya, Spagna e Afghanistan. Scendi in pista con noi per dare un futuro migliore all'infanzia e sostenere un nuovo circo sociale ad Haiti. Seguici su circomondofestival.it, Facebook, Twitter e Instagram. Ti aspettiamo!